Buongiorno a tutti, sono Davide Marone e benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura delle contrattazioni in Europa. Ieri abbiamo visto delle vendite abbastanza importanti sulle borse, stamattina ne andavo a sviscerare un po' soprattutto dal punto di vista tecnico le dinamiche nel Morning Advisor che sempre vi raccomando di leggere anche prima di questo appuntamento in modo da avere una prima overview sui mercati da un punto di vista macro e da un punto di vista dei principali livelli tecnici. Qui osservate il grafico a 4 ore dello Standard & Poor's 500 e da qualche giorno, ieri soprattutto, che individuiamo la presenza su questi punti di massimo di partner e ribassisti, ieri parlavamo della violazione dei nuovi massimi sopra 2020, poi del riassorbimento repentino della domanda sui punti di massimo, pattern ribassista e quindi eravamo pronti a eventuali storni di borsa. Proprio ieri in questa sede li andavamo a commentare, andando poi anche ad aggiungere a un quadro tecnico di prezzo, secondo me è molto chiaro, il pattern di divergenza regolare e ribassista tra il prezzo e lo stocastico sempre sul grafico giornaliero che è stato attivato e che quindi può accompagnare e favorire le ulteriori discese. Ora lo scrivevo anche questa mattina, ci ritroviamo all'interno di uno scenario che è naturalmente uno scenario di correzione dopo gli ampi movimenti visti a ribasso ieri, qui i livelli sono stati precisi, abbiamo assistito al cedimento di aria a 1992 punti e poi quello ancora di 1982 per arrivare in maniera quasi perfetta al minimo precedente, quello che poi aveva consentito nuove riprese dalla fase laterale precedente a 1975 punti. È lecito per cui attendersi come già sta avvenendo nelle prime ore di contrattazione di oggi a dei movimenti di parziali presi di profitto, ricoperture su questi livelli, il quadro l'abbiamo visto sul daily, resta un quadro ribassista e chiaramente ora dovremo studiare i punti di ritracciamento. Il primo fra tutti riguarda sempre il grafico orario ed ancora una volta vedete l'area di 1985 che può permettere delle ripartenze che qui andrebbero anche ad inserirsi in un quadro tecnico che sull'orario contempla in scia a questo preciso canale ribassista un'eventuale divergenza inversa a conferma di questa tendenza, per cui questo può essere un primo punto e il secondo ancora una volta sarebbe questo per favorire quello tra 1991 e 1994 per favorire eventuali nuove partenze. Nel momento in cui sul daily ancora osserviamo uno scenario che vede nel ribasso le maggiori probabilità dati ripeto da pattern di prezzo, pattern con l'oscillatore e livelli di supporto importanti che sono stati violati. Naturalmente io raccomando sempre grande cautela quando contempliamo di vendere le borse proprio per la situazione che ormai è da mesi e settimane che andiamo ad analizzare, però quando abbiamo dei bei spunti tecnici e soprattutto più elementi a soffraggio anche di una view ribassista, dal mio punto di vista vanno sfruttati. Ieri parlavo anche del Dow Jones e del Nasdaq, tanto per fare un quadro comparativo dei principali benchmark, quelli americani, qui abbiamo assistito a una dinamica molto simile, anche se per la verità gli approdi a 16.990-16.985 non sono avvenuti in maniera precisa, anche se le discese, soprattutto monitorando la rottura di aria 17.150-140, le rotture sono state precise, qui in realtà ci siamo arrestati poco prima delle aree di target, ma fondamentalmente restiamo, lo vedete, lo stesso avviso, anche qui il grafico orario molto bello, scenario molto simile, attenzione, perciò ha nuove vendite a partire proprio da quest'area, quindi l'area di 17.090 e contempliamo invece quest'area che va da 17.150-17.120 come eventuale area laddove dovessero esserci le riprese per pensare di andare a rivendere le borse, ripeto, fermo restando dei quadri tecnici degli che lo vanno a favorire. Chiudo col Nasdaq, andando, ripeto, a fare questo rapido escursus sui principali indici americani, qui il quadro tecnico è leggermente diverso, anche qui gli approfondimenti che ci aspettavamo in area 4.010-4.000 punti sono stati per la verità meno potenti di quanto previsto, però vedete qui non abbiamo, se non l'evidenza, di quest'area di resistenza a 4.050 punti che ancora può fare da riferimento per ulteriori partenze ribassiste. Anche qui su Daily, anche se, ripeto, in maniera meno evidente che sull'SP500, abbiamo avuto un pattern di questo tipo. Peraltro ricorderete come andavo a evidenziare delle similitudini tra questi pattern di prezzo e questi, quelli che avevano accompagnato le importanti discese di fine luglio, lo ricorderete, sul Nasdaq per la verità quelle furono meno impattanti di quelle che invece si verificarono sullo Standard & Poor's 500 stesso, però vedete la similitudine, come il ricorrere storicamente di pattern simili, poi spesso vada a scaturire situazioni che di fatto sono altrettanto simili, per cui l'analisi tecnica in questi casi trova la sua massima espressione e ripeto, attenzione alle borse. Parlando di borse, naturalmente avvenendo qualcosa anche di più attuale, visto che siamo già in piena seduta di contrattazioni, qui osserviamo quelli che sono i livelli del DAX, vado a riproporne qualcuno dal punto di vista del supporto, anche qui naturalmente non mi porto sul daily, anzi ci mettiamo un attimo, ecco qui il grafico giornaliero del DAX, anche qui parlavamo di pattern di prezzo, parlavamo dell'eventuale divergenza regolare e ribassista con lo stocastico che cercava conferme, anche se mi piaceva meno rispetto a quella inizialmente pensata, lo ricorderete, la settimana scorsa, poi qui di fatto i supporti tennero perfettamente, nuovi massimi, ma qui il pattern, vedete, è stato confermato, discese importanti, rotture progressive del 740, del 690, del 630 e del 590, quindi livelli quasi qui distanti, molto precisi sul DAX, stamattina parlavo proprio, anzi scrivevo, di eventuali rotture nuovamente sotto 590, vado qui a mettere con precisione il livello, come potessero condurre al primo approdo a 540 e come vedete già ci siamo vicini per un sentiment che dal mio punto di vista non è ancora cambiato, in virtù di cosa? In virtù no di una sensazione, ma ripeto, di fatto quadri tecnici giornalieri che ci danno ancora queste conferme, da cui l'analisi multi frame può essere molto utile perché prendiamo un time frame elevato per studiare la direzionalità, per studiare i segnali e poi ricerchiamo operatività nei time frame intraday, avendo in qualche modo di fatto la consapevolezza che sul time frame maggiore siamo dalla parte giusta, questo è un po' il concetto dal quale parto io e che cerco di trasmetterevi e qui secondo me sull'azionario abbiamo avuto veramente una perfetta esemplificazione di questo, vedete come siamo anche qui partiti in maniera importante a ribasso sul DAX, valutiamo ripeto a prodi ormai molto vicini a 540, qui sull'orario si va a palesare ma questo è piuttosto tipico dopo delle discese così importanti, un potenziale scenario di divergenza, lo stesso peraltro che si andava a palesare prima di ieri, in realtà poi quando un movimento sui livelli di prezzo è così importante la divergenza deve sempre lasciare spazio all'analisi prioritaria dei livelli ripeto di prezzo, quindi ancora è un pattern che io non andrei a contemplare, valutiamo se a 540 possiamo assistere ai primi ritracciamenti, fermo restando che le possibilità di scendere anche oltre a 9500 punti secondo me sussistono, ripeto considerando dei quadri tecnici daily come abbiamo visto, per cui restiamo ribassisti, per la verità siamo già molto vicini al target che io stamattina andavo a scrivere, spero che qualcuno abbia già avuto modo di andare a lavorarci e ripeto io lo potrei lavorare a stop in pari e potrei contemplare degli approdi ulteriori a 9500 punti. Situazione molto simile chiaramente per il Fuzzimib, anche qui ne abbiamo parlato diffusamente sia sul forum che in questa sede, anche qui sul grafico daily avevamo avuto delle conferme discrete, anche se come dicevo ieri e anche come dicevo alla fine della settimana scorsa questo tra gli altri era l'indice un attimo meno evidente, meno tecnico almeno per le mie analisi di quanto non lo fossero gli americani, il DAX e perfino come citavo stamattina il Fuzzi britannico, piuttosto che l'Eurostoxx 50, piuttosto che l'Ibex del quale discutevamo all'interno del forum. Ad ogni modo qui tuttavia il quadro è andato via via a chiarirsi, siamo attenzione su un importante livello di supporto, io ieri lo ritenevo come target, poi per la verità ci siamo fermati poco prima, target che invece di fatto è stato raggiunto proprio adesso, quindi in apertura di contrattazioni, cioè quello di 20.270-20.250 e considerando la price action, considerando la dinamica finora osservata anche sugli indicatori, l'idea è quella ancora di restare potenzialmente in vendita, naturalmente qui si potrebbe lavorare anche in rottura di questo livello laddove non fossimo già dentro, per quella io attenderei sempre eventuali pullback, ma l'idea di eventuali rotture con l'attenzione che poi andrebbe rivolta addirittura sotto i 20.000 punti, quindi in aria a 19.980, per me quest'idea può essere assolutamente suffragata, ma ripeto, attenderei conferme, se fossi invece già dentro contemplerei stop in pari e valuterei appunto quelle che potrebbero essere nuove eventuali rotture, anche qui in forza dei grafici daily che in questo senso ci danno in qualche modo la forza di restare in posizione anche su queste discese che comunque già sono molto importanti. ecco questo è l'escursus che era più che doveroso sul mercato azionario, sugli indici globali, spostandoci sul valutario invece abbiamo situazioni un po' più di interdizione perché anche ieri non abbiamo assistito a movimenti particolarmente degni di nota, anche la dinamica del dollaro americano è ancora piuttosto incerta, abbiamo assistito di fatto a uno stallo del percorso a rialzo, basta guardare un grafico daily ma anche un 4 ore del dollar index per rendersene conto. Venendo all'euro dollaro, ieri abbiamo osservato una dinamica non bellissima, passatemi questa considerazione, dinamica non bellissima per il fatto che di fatto sopra 1,2870 abbiamo avuto quella che pure era una possibile fiammata a rialzo, dicevamo di 1,29, 1,2920 come aree di approdo, in realtà è stato quasi preciso 1,29 per poi rientrare in buona sostanza nel range precedente e ora vedete è ancora l'1,2870 un po' il nostro riferimento, per cui una prestation che non è confusa, scusate è confusa, il quadro tecnico resta ribassista e l'idea di vendita a questi punti da purista dell'analisi tecnica è ancora quella che deve andare a prevalere però anche la ricerca di un rapporto rischio rendimento anche in relazione al movimento visto ieri, ottimale insomma non è dal mio punto di vista facile, quindi pone una volta di più l'euro dollaro in una posizione tecnica non eccezionale, almeno ripeto dal mio punto di vista. Qui si potrebbe contemplare uno scenario molto simile a quello di ieri, cioè rotture sopra 28,70 potrebbero permetterci dei nuovi allunghi, guardando sempre all'aria a partire da 1,29 fino a 1,29,20 sarebbe di fatto una ripetizione di quanto visto ieri però non lo andrà ad escludere all'interno di un quadro tecnico che naturalmente non ha particolari spunti sul fronte macro e secondo me difficilmente andrà a chiarirsi da qui ai prossimi giorni. È vero che alle 10 ci avremo l'IFO, cioè l'indice di fiducia delle aziende in Germania, spesso è stato abbastanza irrilevante quando pubblicato, in un contesto di bassa volatilità può comunque dare adito ad eventuali fiammate, motivo per cui io sarei ancora una volta di più attendista, sapete come la penso su questo tipo di dinamiche. Per cui la prima idea, ripeto, è su queste aree, contemplare ancora delle vendite, vendite che invece potrebbero divenire più consistenti sotto i supporti, quindi sotto aria 28,35, 28,30, però le medie mobili per esempio qui sul grafico orario non sono di grande aiuto, idem l'oscillatore stocastico, per cui vedete abbiamo un po' di elementi che non ci consentono un quadro chiaro, restiamo focalizzati sui livelli tecnici ripetendo un po' quanto ho visto ieri, quindi eventuali rotture sopra 28,70 potrebbero farci rivedere queste aree di interesse. Quadro di interdizione, ecco, anche per il cable, che sul daily ancora mantiene un'impostazione potenziale di ripartenza a ribasso, che per il momento però non trova conferma sui, vedete, i time frame inferiori a partire proprio qui dal 4 ore, dove abbiamo una regolare sequenza di massimi e minimi crescenti, con l'idea che queste aree di supporto siano ancora molto molto valide, quelle cioè che anche l'altro ieri hanno respinto il prezzo, a 63,30 ancora lo sostengono e qui in questo caso l'idea di lavorare su nuovi massimi sopra 64,10 può non essere un'idea malvagia, nell'ambito, ripeto, di un quadro che io non vado a prediligere sul valutario, ma in generale perché non è un quadro che mi piace, al momento stiamo trovando conferma della tenuta di questi livelli, sullo stocastico vedete abbiamo una situazione di simil divergenza ma molto molto sporca considerando la recente dinamica proprio dello stesso oscillatore che è andato in qualche modo ad approfondire in ipercomprato su una pre-section che invece è rimasta abbastanza ancorata qui su questa resistenza a 64,5, per me i primi spunti operativi potrebbero avvenire anche qui in breakout ma sotto l'area di 63,30 come anche scrivevo questa mattina, per cui io a ribasso prima non mi muoverei, contemplerei invece delle possibilità anche a rialzo e rottura dei punti di massimo a 64,10, per cui privilegierei questo tipo di operatività e rottura del livello più importante di supporto del primo livello di resistenza, naturalmente poi i target vanno a essere abbastanza chiari perché a ribasso guarderemmo in primo luogo l'area di 62,70, chiaramente a rialzo i vari livelli a cominciare dal 64,55 fino al 65,20 che abbiamo visto di fatto la settimana scorsa però anche qui se volete un parere spassionato circa l'opportunità di tradare il cable, ecco io anche in questo caso non lo metto in cima alla lista come invece ai quadri tecnici chiari visti sull'azionario già evidenziati ieri e l'altro ieri. Per quello che riguarda lo yen, ne scrivevo anche qui stamattina, abbiamo avuto un arresto del percorso rialzista del cambio, peraltro sentivo questa notte di alcune voci autorevoli che paradossalmente lamentavano di questa eccessiva debolezza di yen in quanto penalizzante per l'importazione e l'approvvigionamento di materie prime in quanto chiaramente la valuta debole rende il costo delle stesse più elevato e qui sul 4 ore, ieri per la verità potevamo essere in qualche modo ingannati laddove stavamo assistendo a delle rotture sotto 105, lo vedete qui sotto l'area di 105,65, 105,5, poi i movimenti sono prontamente rientrati, l'area tecnica è stata confermata, però assistiamo all'impossibilità del prezzo di mettere a segno nubi massimi, anzi quegli ultimi massimi sono massimi di questo tipo, per cui è vero che siamo ancora all'interno di uno scenario potenzialmente di questo tipo, cioè di correzione e ripartenza, ma io comunque porrei l'attenzione alla possibilità di venire via ancora una volta la 108,5 con delle vendite che potrebbero essere importanti e se ci fossero, proseguissero le vendite di borsa ho idea che questo scenario di bassista potrebbe andare di fatto a manifestarsi, quindi sarei molto cauto, tant'è vero che anche questa mattina a rialzo suggerivo delle rotture, quindi degli ordini buy sopra 108,80 non prime francamente, anche se questi sono supporti importanti, però in virtù di questa mancata univocità nella precession di questo vacillare del prezzo attorno ai supporti, io se non sono già, ripeto, non essendo già dentro in posizione contemplerei invece dei long solo in break sopra 108,80, 108,85, questa è la media di fondo, attenzione però soprattutto all'area di supporto che già ieri, ripeto, ha vacillato, attenzione perché i nuovi tentativi potrebbero essere più importanti in direzione 108, in direzione 107,80,85 ma soprattutto l'area di 107,40, quindi sell off non sono da escludere, ripeto, in relazione alle borse possiamo avere un elemento in più di ragionamento, per quanto le correlazioni in un contesto di mercato di questo tipo siano secondo me un argomento molto molto marginale. Per quello che invece concerne l'euro yen, anche qui ieri abbiamo visto un 4 ore che ci dava l'idea che le discese potessero avvenire, anche se fondamentalmente il ragionamento secondo le confluenze grafiche ci consentiva ancora di contemplare dei long, le discese sono avvenute e in maniera quasi precisa siamo arrivati in area 139,20,25 e poi riprese, questo in realtà si è allineato molto alla dinamica dell'euro che ha fatto quel balzo in su per poi andare a procedere nuovamente a ritroso, in questo momento lo short sembra poter essere privilegiato laddove si sono andate a creare queste importanti resistenze a partire dai massimi a 140,20, a partire da questi livelli successivi in area pivotelli, in area fascia di medie a 139,75 per cui qui potremmo pensare ancora a delle eventuali vendite contemplando i long sopra 139,80 per i più aggressivi ma direi in maniera più conservativa anche in questo caso sopra l'area di 140,20, difficilmente vado a individuare altre possibilità al momento per degli ingressi long che ripeto abbiano in qualche modo di fatto degli elementi tecnici probabilistici maggiori, poi ragionando con le confluence grafiche qui potremmo pensare alla tenuta della media 200 e potremmo già andarci a rimettere long da questi punti, però secondo me sottovaluteremo queste resistenze e sottovaluteremo il fatto che comunque il prezzo ha due volte fallito l'avvicinamento ai punti di massimo e che la correzione non è neanche così tecnica, per cui prudenza su questi punti, attenzione ai supporti che sono meno appetibili di quelli visti su dollaro yen, a partire proprio dal 139 che vedete molto ravvicinato su dollaro yen, eventuali rotture avrebbero buono spazio a ribasso e i long guardando in primo luogo quel livello di 139,75 è buono per un buy fino a 140,20 e poi pensare di prendere profitto stop in pari perché eventuali rotture sarebbero importanti ma al momento non le ritengo così imminenti, parlo delle rotture sopra 140,20. Terminerei il focus valutario sull'australiano che continua dal mio punto di vista a essere il grafico da privilegiare, quello su cui mantengo la maggiore operatività, il 4 ore lo vedete anche ieri, estremamente tecnico, test di aereo 89,20, ripartenze nuovi minimi e adesso ci troviamo di fronte a uno scenario molto simile con una nuova possibilità di divergenza proprio su questi punti, le divergenze in questi casi quando cioè siamo in pesante controtendenza io le vado a eventualmente implementare su delle conferme, conferme che in questo caso devono passare dal superamento di aria dell'area della media 21 ma in questo caso sarei anche più prudente sopra la resistenza 89,20, è vero il risk reward sarebbe al limite ma in un contesto del genere quello che deve essere assolutamente pensato è lo short ancora una volta fino a 89,20 oltrepassato il quale potremmo invece vedere la divergenza svilupparsi e quindi pensare di andare a comprare con il primo target in aria 89,90 in aria 90, in aria 0,90. Fino a quel momento il focus dal mio punto di vista deve restare ancora un focus ribassista, mi porto sul grafico orare dove vedete in buona sostanza lì c'è la resistenza di seconda istanza come la definisco io cioè quella rappresentata dalla media 100 e anche qui vedete lo stocastico potrebbe proprio qui andare a girare quindi consentirci delle nuove vendite sfruttando un rapporto rischio rendimento che invece in questo caso sarebbe ottimale per cui con un grafico del genere la prima idea è sempre un'idea in tendenza cioè un'idea short pronti a cambiare eventualmente posizione non solo posizione pratica ma anche proprio posizione teorica al superamento di quest'area avvalorando il pattern di divergenza regolare rialzista sul 4 ore che comunque è un pattern che potrebbe andarsi a conformare molto bene. Terminerei con l'oro perché ieri è stato l'oro nel senso che è stato un po' un po' pazzo passatemi il termine non di facile interpretazione questo va detto perché ieri ancora suggerivamo delle potenziali vendite in area 1220 in area 1225 indicando poi eventuali reverse sopra questi punti reverse che spero che qualcuno sia riuscito a implementare che poi vedete sono approdati fino a 1235 per poi tornare indietro è di entrare nuovamente sotto l'area dei 1227 quindi un oro tutt'altro che è facile da interpretare. Dicevamo e lo scrivevo questa mattina come sul daily faccio un breve percorso a ritroso come sul daily di fatto questo possa configurarsi come un segnale rialzista che chiaramente si inserisce in un contesto ribassista per cui va molto ponderato da grafico daily dovremmo ritornare sopra 1230 per avere delle buone conferme perché l'area compresa tra 1227 e 1230 rappresenta ancora badate bene un'area di vendita per cui ancora una volta trend ribassista la prima idea deve essere sempre quella di vendere da lavorare eventualmente in break ripeto rispetto ai punti di minimo per cui qui questa è ancora un'area che contempliamo come area di vendita ma attenzione come scrivo questa mattina al suo eventuale soperamento a rialzo quindi sopra 1230 1231 laddove ripeto potrebbe trovare invece manifestazione quanto visto sul daily con livelli che però devono essere molto prudenti quindi il livello di 1240 assolutamente in primis per già pensare di lavorare a stop in pari e poi valutare se effettivamente le riprese possano essere consistenti come dicevo anche stamattina andare verso 1243 e 1250 per cui attenzione all'oro che gli è insomma mostrato grande volatilità movimenti non facili da interpretare o quantomeno la salita era auspicabile perché parlavamo di superamenti sopra 1227 1230 che potevano essere buoni poi in realtà il movimento è stato prontamente riassorbito ecco la lettura di quel movimento secondo me era invece molto molto più difficile quindi complimenti laddove qualcuno fosse riuscito a interpretarla nella maniera corretta il grafico orario non ci dà molti altri spunti per cui restiamo ripeto 1227 1230 area di vendita superamento lo guardiamo a rialzo verso l'area di 1240 io mi fermo qui con la registrazione resto qualche minuto con voi per le domande e per le domande le trader di FXEM oggi è mercoledì faremo anche il webinar educativo alle 17 proponendo insomma trading dal vivo nel senso che proveremo a implementare delle operazioni sui time frame di breve laddove se ne presentassero delle occasioni il link è lo stesso con il quale vi siete collegati quindi insomma nessun nessuna difficoltà quindi eventualmente ci risentiamo oggi alle 17 naturalmente durante la giornata all'interno del forum intanto io vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento e un buon trading